Conclusi i campionati dilettantistici, almeno per quanto riguarda le formazioni che si sono fermate alla regular season e tempo di programmazione per le società erpine. Su tutte Virtus Avellino, Serino, Santomaso ed FC Avellino già hanno sondato il mercato alla ricerca di calciatori o allenatori. Quest'ultimo non è sicuramente il caso delle prime tre società. Virtus Avellino e Santomaso hanno riconfermato i tecnici della scorsa stagione, Corrino Criscitiello ed Andrea Ceramella rispettivamente riproposti, mentre il Serino ha optato per un cambio dopo la rivoluzione già avviata a fine campionato. Sulla panchina bianca azzurra ormai una notizia ufficiosa siederà Agostino Spica. Più interessante è il discorso riguardante l'FC Avellino. La società del patron Galluccio, dopo essersi salvata nella scorsa stagione, mira qualcosa di più ambizioso. Per questo motivo sono costanti i contatti con Mario Silvestro, allenatore ex Santomaso, che potrebbe firmare con l'altra formazione del rione avellinese già nelle prossime settimane. Infine, un'altra Irpina a valutare se optare per un progetto ambizioso è il Grotta. La società giallorussa, già sul finire della scorsa stagione, aveva cambiato due volte in panchina, prima ingaggiando Negri, ex Ariano, e poi affidando la panchina fino al termine della stagione a Gargiulo, secondo di Sergio Lacava, sarebbe quest'ultimo l'indiziato principale per la prossima stagione giallorussa, ovviamente nell'ipotesi di un ripescaggio in eccellenza. Per le prime ufficialità si attenderà all'inizio di luglio, quando si potrà procedere formalmente all'acquisto di calciatori e trainer. Per le società Irpina scalda noi motori.